Ma un fattore comune dominatore della giornata è stato quello riguardante le emozioni, abbiamo parlato di come sostanzialmente le emozioni possano, sostanzialmente le parole, le emozioni possono modificare gli ormoni e come gli ormoni siano poi giochino un ruolo centrale nella nostra vita. E quindi il prossimo relatore ci parlerà proprio di come la comunicazione, essendo un esperto di neurolinguistica, può effettivamente modulare anche il nostro stato di salute. E quindi do il benvenuto a Paolo Borzacchiello, il prossimo relatore di giornata, nonché l'ultimo relatore. Buongiorno. Benvenuto. Benvenuto. Buon lavoro. Sono l'ultimo? L'ultimo e poi tavola rotonda. Perfetto, quindi su di me c'è tutto il peso del... Esatto. Ok, va bene. Fantastico. Quello verde, quello per andare avanti, giusto? Sì. Perché sono dal tonico anche, fra l'altro, tutta una serie di cose straordinarie. State bene? Sì. 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 Cosa è successo in questo momento, per esempio? Che il vostro tronco encefalico ha avuto una reazione. L'amica te l'ha detto, questo ci fa le domande, noi non rispondiamo... Lo sentivo dai suoni, che di solito li sento, ma prendo le pastiglie per questo. Dicevo, la vostra amica l'ha detto, in modo molto sintetico, lui fa una domanda, io non rispondo, lui va avanti lo stesso, quindi posso disinteressarmi. Ecco, io ho 30 secondi per suscitare in voi una ipersecrezione di adrenalina, che è quello che mi serve per fare in modo che questo pezzo finale di relazione non soltanto sia interessante per voi, ma generi in voi le emozioni che servono per produrre poi un cambiamento comportamentale. Che è quello che faccio io, per esempio, con i libri, la mia produzione, io scrivo libri e soprattutto per quel che ci riguarda come consulente per le case farmaceutiche, per esempio. Sono referente della SIU, della Società Italiana di Urologi, che serve il mio intervento a fare che cosa? Fare in modo che quello che i medici dicono ai pazienti produca risultato. Perché, lo sapete sicuramente meglio di me, i dati sulla compliance terapeutica, ad esempio, o diagnostica, sono straordinariamente bassi. Perché il paziente non fa quello che dovrebbe fare per la sua salute? Perché non è ingaggiato dal punto di vista della, chiamiamola, comunicazione, io la definisco più interazione, perché, come vedremo, mi occupo di cognizione incarnata, mente estesa e tutto quello che le parole fanno sul cervello. Questo è mio fratello, come vedete, con il tatuaggio, che però ho scelto di non presentarmi in questo modo, perché dico, ho un convegno a tutti i medici con la cravatta. Già, ho fatto uno, avevo anche il bottoncino slacciato, ma ho visto Chiara Marford che mi ha guardato malissimo e quindi ho pensato di allacciarmi. Se svengo durante lo speech, raccoglietemi, non è una cosa facilissima, ma ok. Cosa facciamo oggi, quindi? Parliamo di, brevemente, chiaramente, vi accenno, a quelle che sono le parole giuste per i nostri cervelli. E vedremo cosa intendo per cervelli e vedremo perché c'è questa connessione, entriamo nel campo della linguistica cognitiva soprattutto, questa connessione tra cervello e intestino. che voi già sapete in realtà, sapete perfettamente, è già dentro. Il mio compito oggi, quindi, non è spiegarvela, ma ricordarvela, affinché tutti quanti noi possiamo capire come applicarla al meglio. Vi faccio un esempio. C'è qualcuno che non sopporta le montagne russe, per esempio? Così, in scienza del comportamento, che è quello che faccio io, vuol dire io. Così vuol dire, non so cosa rispondere. Quindi, così, o avete una periartrite fortissima e non riuscite ad alzare il braccio. Chi non le supporta le montagne russe? Abbiate. So che è una cosa scientifica, ma si può ridere e si può divertirsi. Ok? Quando vado a fare le conferenze, le lecture, i convegni dei medici, mi guardano i primi tre secondi e dicono, ma possiamo ridere? E dico, sì, sì. Endorfine? Tessuto splacnico, si muove? Vi rilassate i visceri e state meglio. Non è che ci vuole molto. Basta sapere quali bottoncini toccare. Torniamo alle nostre montagne russe. Non ti piace. Dito di lei, come volete, esimi, eccellenza, santità, chi vuole santità? Le persone che non amano tanto le montagne russe, immaginatevi la scena. Vi mettono comunque su un carrellino, di fronte alla discesa, e vi fanno fare il giro che non vi piace. Quando scendete, e dovete raccontare questa esperienza terrificante ai vostri amici o conoscenti, che cosa direte? Direte, me la sono fatta sotto dalla? Chi vi ha insegnato a dire così? Chi vi ha insegnato che il collegamento linguistico tra paura, per esempio, e apparato intestinale o apparato vescica si esprime in questa maniera? Chi ve l'ha insegnato? Ve l'ha insegnato l'intestino, che si ricorda di quando eravamo cavernicoli e diceva, se c'è un leone davanti, io la prima cosa che devo fare è farmela sotto, per alleggerirmi e scappare. Ecco, questo collegamento linguistico è molto interessante perché ci permette di capire, quando il paziente, o comunque noi, quando l'interlocutore parla, ci permette di capire come sta. Ecco la frase iniziale che vi ho citato tramite l'immagine di mio fratello. Le parole che dici, le parole che usi dicono da dove vieni, cioè noi dal linguaggio possiamo capire qual è la condizione emotiva della persona, le parole che scegli dicono dove vuoi andare. Cioè noi possiamo correggere attraverso il linguaggio la reazione chimica e quindi comportamentale del paziente, per esempio. Che è quello che faccio io quando faccio formazione ai medici e gli dico, è inutile che vi arrabbiate perché c'è un problema fortissimo per quanto riguarda i medici, che io comprendo e condivido. Il medico mi dice, non vedo perché io dovrei imparare a parlare bene, ho 12 lauree, so leggere le analisi, so fare la prescrizione perfetta, non capisco cosa devo fare. Il paziente sta male, gli dico cosa deve fare, lo deve fare. Questa cosa voi sapete che non funziona praticamente quasi mai. La compliance in questo caso, diagnostica terapeutica, è bassissima. Il paziente mente contro il suo interesse. Il paziente non prende le medicine che gli farebbero bene. Quindi se ci aspettiamo che le persone siano razionali e che noi possiamo modificare i comportamenti in modo razionale, è siamo fuori strada completamente. Questo è il tema che io tratto con le case farmaceutiche, con i medici o comunque nelle interazioni quotidiane. Io mi occupo di ingegneria sociale, cioè di come condizionare i comportamenti umani attraverso variazioni linguistiche o ambientali. E oggi parliamo anche un po' di questo. Questo è il tema del mio speech. Che vi serve non soltanto per quanto... Sì, questo è il mio curriculum. Sono Paolo, ciao. Che vi serve non soltanto per la vita professionale, ma anche per la vita privata. E voglio farvi questo test in questo momento. Vi chiedo di ascoltarvi, di connettervi un po' alla parte interna di voi e di stare attenti alle sensazioni che sperimentate. Vi parlo di un solvente. Un solvente molto pericoloso. Molto pericoloso. Vi do degli indizi per capire di cosa si tratta. Nelle ultime settimane ho colto l'occasione, visto, ahimè, quello che ci dicono che sta capitando intorno a noi, che è una cosa diversa da quello che sta capitando. Mi occupo anche di comunicazioni dai media, quindi si aprirebbero degli scenari straordinari. A Pavia, per esempio, dove ho la sede, dove ogni tanto faccio qualche lezione all'università, c'è anche un reggimento, pensate, che si occupa di come manipolare le informazioni per fare in modo che l'opinione pubblica firmi l'invio di armi dove devono essere mandate. C'è un reggimento, il ventottesimo reggimento, il cui unico scopo è addestrare alla manipolazione delle informazioni. Questo per darvi un po' il taglio delle cose... Eh, sì, l'espressione così vuol dire... Che cazzo! No, non si... Volevo dire che pene. Pene nel senso di patimenti, chiaramente. E quindi ho colto l'occasione, insomma, questo solvente usato nella guerra, fra russi e ucraini. Usato sia dai soldati russi, sia dai soldati ucraini, in guerra. Ascoltatevi intanto che io parlo. Impiegato anche, in dosi anche minime, può danneggiare in modo irreversibile anche device tecnologici più avanzati. Avete sentito parlare di hackeraggio, di anonymous, computer... Può danneggiare tutto. Addirittura è ustionante, sentite la parola, ustionante alle alte temperature. Aggiungo, è presente nella totalità delle cellule tumorali. E' utilizzato nelle centrali nucleari, che è un altro tema purtroppo molto contingente, e addirittura nelle industrie che producono armi chimiche e batteriologiche. Questo è il solvente di cui vi sto parlando. Che come sicuramente voi avrete capito, è acqua. Io vi ho parlato dell'acqua. Senza mentire. L'acqua è ustionante alle alte temperature? E' presente nelle cellule tumorali? Sì. Scorre nelle centrali nucleari? Sì. Anche nel cesso di casa vostra. Ma non è la stessa cosa. L'acqua che può essere venduta, vedete questa slide, è un prodotto che esiste, si chiama Fascial Spray, l'acqua che può essere venduta a 99,80 euro al litro. Questo prodotto viene venduto a 99,80 euro al litro. E sapete che cosa contiene questo pacchetto dell'Evian? Contiene, sapete cosa? Acqua. Con la Q senza la C, perché se lo scrivi in latino, tecnicamente in mare, si parlava prima di neuromarketing, costa molto di più. E sapete quali sono le indicazioni di questo prodotto? Idratante. C'è un prodotto idratante. Può rinfrescare la pelle. E io ve la metto come provocazione. Ma visto che parliamo di emozioni, le parole disegnano le emozioni. La teoria della percezione, che è l'ultima frontiera delle neuroscienze applicate alla percezione umana, ha dimostrato in modo inequivocabile come la realtà che noi percepiamo dipende dalle parole che usiamo per descriverla. Le parole cambiano la realtà, non l'opinione della realtà. Noi non possiamo cambiare l'opinione che le persone hanno della realtà. Possiamo cambiare i pezzi che compongono la realtà. Si chiamano variabili. Possono essere la temperatura, possono essere l'abbigliamento, le parole, i gesti. Noi possiamo lavorare su quello. Perché da un lato io vi parlo di centrali nucleari e io lo so che il vostro circuito interno, il sistema limbico, secondo Kahneman, produce adrenalina. Perché se dico nucleare, io lo so che cosa succede. si attiva un sistema di avversione endogena e la perdita che vi dice oddio, la centrale nucleare che paura, produco gli ormoni neurotrasmettitori che mi servono per fare che cosa? Per scappare da un pericolo reale o presunto. Io so che se dico nucleare tre volte posso o aumentare il prezzo della benzina e farvi sospirare di sollievo quando poi lo abbasso. Avete presente come è successo, no? Uno e sei, nucleare, nucleare, due e due. vedi, uno e otto, ah, che bello, si è abbassata. Si chiama, il professore ha fatto un gesto che io non vorrei mai ripetere, aggiungo il frame senza vasellina. Però, è straordinario. È affascinante. Il mio mondo è affascinante e un po' bizzarro. Tra l'altro sentivo parlare di salute femminile, sto giusto lavorando sul Touch of Pink di una casa farmaceutica super importante, su una crema che di solito si usa per gli uomini e adesso invece la stiamo facendo usare anche per le donne. Come lo facciamo? Chiamano me per raccontare una storia diversa. È un prodotto che è tipicamente maschile e diventerà all'improvviso, per magia, anche femminile. cosa cambierà nelle pazienti? La percezione del prodotto. Da cosa sarà mediata? Dalle parole che il medico userà per descriverlo. Voi potete prendere dell'acqua e terrorizzare le persone oppure prendere dell'acqua ed eccitarle sulla promessa di oddio mi idraterà la pelle che è come bere dell'acqua con scritto può avere effetti diuretici e essere tutti contenti perché l'abbiamo bevuta. Vi svelerò un segreto importante, anche la candeggina può avere effetti diuretici. Bevi due litri e muori ma con effetti diuretici straordinari. Ne fai fuori un po' anche dagli occhi ma biologico insomma senza entrarne in merito di discorsi escatologici però biologico è un sacco di roba. Però noi la agganciamo a emozioni buone. La magnetofalloide che è un funghetto che se lo tocchi muori è biologico. È naturale biologico. Attenzione alle parole. A me piacerebbe che questo mio speech servisse anzitutto per centrare il tema su come le parole sono importanti per la salute dell'intestino. Visto che avete voi prima dichiarato questa connessione voi ve la fate sotto dalla paura. Voi vi legate addosso. Non so se il labiale si legge in zoom. Ok? Quella cosa lì nessuno ce la insegna ma è l'intestino che ci parla. Quindi cambiare le parole vuol dire fare un lavoro importantissimo sulle nostre salute. E questo è un dato tra l'altro vi ho presentato qualche slide con citazioni medico-scientifiche perché insomma il convegno lo richiede. La parola che cosa fa? Da un punto di vista cognitivo attiva un'immagine se io dico disturbo voi sapete nel vostro cervello si attivano delle idee che non sono buone che sia il disturbo del telefono perché pensate c'è gente che per essere gentile chiama le persone e dice scusate se è disturbo sapendo che attiva il blocco dell'intestino per esempio perché disturbo è un problema che il cervello percepisce come pericoloso da cui distanziarsi quindi il sistema nervoso centrale si ferma con tutto quello che ne consegue. Ogni volta che chiamate qualcuno e gli dite se lo disturbate sapete che sulla scala di Bristol mi fate da 7 a 2 in un colpo. Questa l'ho studiata per due mesi con mia sorella mi fa usa la scala di Bristol che di sicuro andrà molto bene. Parola immagine reazione chimica non si può non averla magari non è sensibile magari non è discriminante ma ogni cosa che io dico qualcosa fa ogni cosa che voi dite leggete o pensate qualcosa fa magari piccino ma poi c'è l'effetto sommatoria tutti i giorni per 100 volte al giorno insomma dire 200 volte al giorno eh insomma la situazione è dura la vita è dura la vita è dura mi sento bloccato la vita è dura io non penso che insomma a livello anche intuitivo questa cosa sul intestino produca del benessere dici duro 200 volte il cervello lo vedrete e la linguistica cognitiva lo incarna si chiama embodied cognition quello che dico diventa il mio corpo come parlo sto che è una cosa affascinante vi ho portato due riferimenti un paio di riferimenti che secondo me sono interessanti come divulgazione Benedetti fra l'altro è il nostro più importante è un esperto di effetto placebo e nocebo ed è il più importante neurofisiologo al mondo che noi abbiamo l'orgoglio anche se non pubblicizzato di avere come rappresentante e ha verificato in modo anche in campi diversi dal vostro quindi soprattutto per quanto riguarda il discorso polmonare come anche il soresi come la connessione tra il linguaggio e il sistema immunitario sia significativa e determini la funzionalità per esempio anche dai farmaci o il decorso terapeutico il soresi che si occupa tra l'altro di campo terminale quindi delicatissimo le sue ricerche sono pubblicate in questo libro ha verificato come anche il decorso terapeutico sia strettamente legato al tipo di parole che il medico utilizza ve l'ho messo in slide così se poi volete dare una lettura magari avete già letto qualcosa ma insomma è comunque molto interessante quel che mi interessa sottolinearvi oggi è proprio questa questa differenza che c'è di percezione della realtà e di incidenza sul fisico io però non penso di aver parlato mezz'ora no allora dovreste sistemare il timer secondo me perché mi sta dando dei messaggi all'insula sto producendo corticoidi e fra un po' comincio a salivare a salivare l'adrenalina perché vedo messaggi in rosso meno uno dico ma no non ho ancora fatto due slide sento eh dai poi stasera vado a casa non faccio niente dico è colpa della Chiara Marford eh mancherà qualcosa fa niente come si gestisce un imprevisto tecnico ok governandola per i stasi questa ricerca che vi porto secondo me è una delle più divertenti l'hanno fatta a Stanford mi sembra Brian Ways no Brian Wonsky è un nutrizionista che si occupa di comportamenti alimentari ha scritto un libro bellissimo su come le variabili ambientali influenzano i comportamenti umani sul cibo una roba straordinaria una delle ricerche che fa è questa fa leggere a un gruppo di studenti una ricerca sui danni nel suo guardo in alto poi vi spiego perché sui danni legati all'anzianità ok sempre quando parlate di problemi guardare in alto mai fissare qualcuno ok quando faccio un convegno non so sul tumore prostatico benigno metti caso che parlo dico no sai perché è il tumore prostatico benigno uno dice che cazzo guardi ma che non è da poco guardare in alto a volte aiuta è emozione pure questa il cervello collega il contatto oculare alla parola brutta dice perché io insomma e quindi stare attenti anche a questo a volte guardare in alto è un'idea geniale morale un gruppo di persone fa leggere questa ricerca sul fatto che dopo una certa età il liquido sonoviale la cartilagine le articolazioni le osse tutta quella roba lì e ad altri contemporaneamente nella stessa sala fa leggere che cosa una ricerca invece su come allenare i muscoli per una performance sportiva possa incrementare le fibre i tenini i muscoli striati la corsa la velocità tutte quelle belle cose poi ritira i fogli e a entrambi i gruppi di persone dice adesso dovete raggiungere il punto A dal punto B e queste persone vengono cronometrate e videoriprese riuscite a immaginare chi arriva primo al punto B riuscite a immaginare gente che legge per mezz'ora di problemi alla Sinovia ed esce zoppicando dall'università vi hanno mai parlato di qualche sintomo e poi a casa cominciate a toccacciarvi dappertutto e dici ma io per esempio ho scoperto durante un convegno della SIU io di solito evito i convegni medici perché so che le parole producono solo che di certe cose devi parlare e allora quando vado a fare queste cose qua dico arrivo tre minuti prima non ascolto nessuno parlo e scappo quel giorno però il presidente della SIU Walter Artebani mi dice dovresti venire tutto il giorno ad ascoltarci perché così ci dai feedback su come comunichiamo con i pazienti eccetera io dico gli faccio una parcella doppia del solito ma lui accetta sorprendentemente accetta io mi faccio otto ore di tumore prostatico benigno otto ore sono tante con una dovizia poi di particolare un entusiasmo dei relatori straordinario io ho cominciato a sentire torsioni del funicolo verso le prime due ore stavo malissimo rientro in albergo e vado a fare quello che di solito faccio dopo un corso cioè come dico in modo fine pacato elicitare la parte liquida di me stesso questa è bella fatela in un ristorante se vi va di avere un'attenzione particolare che nel cameriere gli dici dovrei elicitare la parte liquida di me stesso gli dice eh vi si ricordano di te di solito non so in che modo insomma io vado in bagno e e comincio a guardare l'arco di minzione che dico non ce l'avevo prima era bellissimo e comincio a calcolare i gradi e dico beh funzionerà io per tre giorni ogni dolore che sentivo avevo dei pensieri brutti in testa questo fanno le parole ed è inutile che noi diciamo alle persone è tutto nella tua testa come se fosse una cosa di poco conto se nella tua testa c'è ogni pensiero è reale ogni cosa che avete in testa ogni cosa che il paziente ha in testa è reale anche se non corrisponde al vero e questo è un passaggio cognitivo importantissimo la realtà è intesa come percezione della realtà su questo noi vogliamo concentrarci io quanto tempo ho per parlare? no 10 me lo dovete scrivere c'è un timer che è inutile che va al contrario e non mi dice il tempo altrimenti io che insegno anche penosi conversazionale vi dimostro come si fa a pensare qualcosa di brutto a qualcuno e lasciarlo lì per un quarto d'ora con delle convenzioni strabiliantemente pessime quindi il nostro compito è quello di proprio capire come le parole che usiamo influenzano il nostro cervello e determinano il modo in cui stiamo compreso l'intestino perché lo vedremo la metafora che noi utilizziamo si incarna nel corpo la mente estesa che cos'è? poi vi faccio vedere le slide la mente estesa è il corpo che incarna le variabili esterne o le parole le parole diventano materia sapete quel libro di marketing che dovrebbe di solito si fa leggere a scuola è un fantastico dove c'è scritto il verbo si face carne questa arriva però non ride nessuno però l'ho messa lì beh è straordinario il verbo la parola si fa carne si fa ormone la parola diventa un ormone se io dico scusami se ti disturbo disturbo attiva l'amigdala te produci cortisolo il verbo si fa carne se io dico immaginate che bello sarebbe se già solo il verbo immaginare attiva la connessione tra i due emisferi destro e sinistro tramite il corpo calloso e un pezzettino di serotonina ce l'hai un po' di ossitocina se io dico oh che bello reologio un po' di ossitocina ce l'hai ecco la parola diventa carne diventa ormone poi se volete la versione in cui c'è il potenziale di trasmissione il liquido il spazio intrasinaptico e si discioglie il sale di iodio ci possiamo lavorare un altro giorno naturalmente però mi interessa che la ricaptazione delle sostanze chimiche che abbiamo nel corpo per esempio è legata al linguaggio più la persona parla bene più la ricaptazione funziona meglio e non ti trovi a disperdere serotonina e essere depresso perché magari parli male questo è un passaggio importante il prozac funziona meglio con i pazienti che hanno per esempio un trauma cervicale perché sono costretti a stare con il collo alto e stare con il collo alto ti impedisce di essere troppo triste non puoi nemmeno piangere quando hai il collo alto cambia la composizione delle lacrime quando hai il collo alto una mamma lo sa quando il bambino piange cosa gli dice? cosa gli dice? guarda perché è su? perché su è bello su produce ormoni del benessere lo sapete anche voi quando siete contenti che cosa dite? di essere giù di corda o su di morale? chi verrà insegnato? su quale libro l'avete letto? a meno che l'avete letto i miei su quale libro avete cosa che peraltro sta per succedere? farò in modo di chi verrà insegnato? nessuno è il cervello che lo fa da solo quindi io so che se dico sono su di morale le parole che dico le parole che uso dicono da dove vengo cioè se dico che sono su vuol dire che sono contento e contento voi lo sapete cos'è? è un mix chimico cos'è la contentezza? è un mix che si può misurare gli piazzi un tampone in bocca e dici fammi vedere come sta questa persona se uno è contento non ci troverai troppi ormoni dello stress ci troverai ormoni del benessere quindi le parole che usi dicono come stai è una sorta di tampone linguistico le parole che scegli dicono dove vuoi andare io posso correggere il cervello plasmarlo neuroplasticità ok effetto si chiama Sapir-Whorf che sono i due scienziati che hanno scoperto come le parole producano cambiamenti a livello di creazione di sinapsi nervose che producono poi cambiamenti comportamentali di salute se parli meglio stai meglio questo è un passaggio è inutile pensare di andare bene di corpo se usi duro la metafora duro 200 volte nella tua esistenza perché duro contrae in alcuni casi va bene guardo lo schermo in altri meno ok mentre uso si chiama polisemia cioè un linguaggio che è volutamente ambiguo considerate che lo faccio per un motivo c'è caldo avete fatto una giornata di contenuti super importanti il mio compito è farvi produrre endorfine come lo faccio attraverso l'attivazione dell'area tabù che io so che si accende comunque sempre in tutti quanti voi se io dico duro io so che una parte del cervello vostro si accende l'area dei tabù che sono sesso escrementi guarda caso e Dio vi faccio sorridere ogni insulto che vostra mente può Dio sai quella base di marketing che dicevo no non l'ho detto cancellate vi faccio sorridere ogni insulto che voi potete concepire nella vostra mente infatti è legato a sesso escrementi e Dio adesso so cosa sta succedendo capito questa è la cosa bellissima è che io so cosa sta succedendo so che cosa sta pensando dal vai test ok e so che i vormoni produrrò facendovi questa provocazione questo vuol dire avere il potere di controllare le emozioni delle persone attraverso il linguaggio io so che se vi dico tutti gli insulti del genere voi cominciate a pensarci tutti anche quegli ostili che dicono no quello lì non riderò non riderò perché mi sta un po' sulle palle per l'atteggiamento che ha però il cervello andrà e produrrà ormoni e il verbo diventa carne quindi attenzione alle parole che usiamo perché hanno a che fare moltissimo con la salute se voi sentiste parlare mia sorella chiara sai che devo mia sorella che lavora con l'intestino mi sta ascoltando che la migliore in assoluto sorella che io potessi mai avere è l'unica ma non stiamo a specificarglielo in video la sentiste parlare lei parla solo di quella roba lì ma ce l'ha proprio intriso perché a furia di parlarne il suo cervello si è cablato il cablaggio mentale è straordinario perché? perché potete cambiarlo se voi vi ascoltate e parlate male con le metafore che poi vi dico e non vi piace le potete cambiare potete correggere attraverso il linguaggio le funzioni intestinali o comunque le funzioni corporee è straordinario questa cosa qui non basta naturalmente questo serve la vegeta serve tutte quelle robe bellissime che avete detto ma fare quella cosa lì senza questa è un pezzo buon non è meglio o peggio meglio il mio approccio meglio il tuo approccio è insieme soprattutto perché quando vogliamo farsi bene le persone dobbiamo ricordarci che le persone non ragionano non fanno mai scelte razionali non fanno mai quello è meglio per loro fanno quello che sono abituate a fare anche se quello che sono abituate a fare fa schifo si chiamano gangli della base memoria procedurale e non sto a raccontarvela perché di sicuro che la sapete meglio di me questo è il passaggio quindi come facciamo a influenzare il cervello il cervello il cervello ho fatto la slide ho tre cervelli che non sono tre perché McLean è stato sconfessato dalle ricerche eccetera però è una metafora interessante per parlare di insomma sistema limbico il sistema limbico e la neocorteccia non lavorano proprio allo stesso ritmo un bravo esperto di marketing che lavora in ospedale io faccio ricerche con il Besta di Milano per esempio perché facciamo uno scambio merce loro mi danno dei dati io gli spiego cosa testare stiamo lavorando molto sulla memoria per esempio come far ricordare di più le cose alle persone usando le parole è molto facile con le parole puoi alterare persino la percezione del tempo uso tre avverbi di tempo velocemente subito rapidamente voi passate un quarto d'ora e pensate che ne siano passati sette di minuti con le parole fate un sacco di cose e sono tre cervelli no in realtà no perché perché sono quattro perché c'è anche l'intestino che io dico sempre il secondo cervello mia sorella dice che è il primo è questa gara familiare per cui no prima la cacca poi i pensieri non si capisce mai chi vince ma in realtà non sono neanche quattro perché sono cinque cervelli perché il corpo poi è il cervello è mente estesa si chiama embodied o included cognition cioè vuol dire che se io vi metto in mano una tazza di caffè caldo adesso entro tre minuti voi cominciate a percepire la realtà in modo diverso e cioè a percepirmi come più affabile più empatico addirittura a usare aggettivi legati al caldo per descrivermi e non sapreste perché questo è il corpo è l'intelligenza del corpo conta lo spazio conta la postura conta l'abbigliamento conta l'ambiente conta tutto in questo mestiere oggi parliamo di parole le parole che possono avere un'influenza determinante io vi ho portato un po' di elenchi parole che possono alterare in peggio le funzionalità dell'organismo e dell'intenzione in particolare parole che invece possono migliorarla alquanto ve le propongo così poi ci lavorate ricordandovi che ogni parola che dite un effetto lo fa nessuna parola è esenta l'avverbio che scegli produce un'alterazione della percezione la parola che usi qualsiasi parola produce un effetto e questa cosa dovrebbe inquietarvi almeno io quando faccio uno speech anche se di mezz'ora e vado veloce l'effetto che mi aspetto sai qual è? ansia ansia di tutti dovreste avere un'ansia tremenda dopo il mio intervento dovreste prima di scrivere una mail che finisce con voi no non lo farete ma c'è gente che scrive le email chiudendole con resto in attesa di un cortese riscontro dovreste pensarci all'effetto ormonale che fa questa cosa sul vostro interlocutore ma voi so che non lo fate quindi non c'è nessun problema che è il motivo per cui ieri sera ho fatto la presentazione ai mondatori del mio ultimo libro e un sacco di gente è venuta a salutarmi a incontrarmi ma Paolo che bello conoscerti mi fai venire l'ansia e nessuno mi parlava quindi anche a voi succederà vedete poi nella pausa io vi chiederò com'è andata perché oggi è il giorno delle parole il giorno che faccio anche la comunicazione non verbale sarà così com'è andata non mi parla nessuno chiara sì per compassione quindi facciamo il punto veloce così come stimolo di riflessione in mezz'ora io posso ispirarvi al valore delle parole e darvi uno stimolo una direzione che poi potete approfondire parliamo di metafora incarnata cioè le metafore che il corpo incarna e traduce in sintomi buoni o meno buoni ed è un codice universale questo codice vale e crea ok la nostra realtà e la trasforma a livello percettivo sensazione quella che io produco o dall'esterno chiara mi parla o internamente cioè le parole che uso per pensare qual è la sensazione dominio dai sensi che diventano percezione io vivo la realtà in base a come parlo e c'è un codice universale fra l'altro che vale in tutte le parti del mondo un medico con 12 lauree che vive a New York per dire che è contento si riferirà al concetto di altezza la metafora di altezza un bambino del borneo che non ha google uguale nessuno vi ha insegnato a dire che le cose sono un po' giù di tono o su di morale che vi sentite sollevati o sprofondare nessuno ve l'ha insegnato ma considerate che ogni volta che utilizzate metafore legate al basso favorite come dire blocco ritenzione chiusura malessere quando usate l'alto per esempio producete endorfina è un dato mi sento all'altezza quando è che lo dici? quando hai endorfina in corpo quindi se usi quella parola senza averle le produce si chiama dissonanza cognitiva altro fenomeno che certamente conoscete il cervello dice questo parla di cose belle fa un piccolo check interno dice ma io non ce le ho dentro quindi cosa faccio? le produco questo è questo è l'abracadabra cioè avracadabra io creo cose come parlo tutto quello che riguarda l'alto quindi mi serve quello che riguarda il basso invece non in questo contesto devo formare una forza vendita? devo stimolarli a produrre? mi serve strizzal ecco come lo diremmo? perché diciamo strizzal? perché quando hai paura che succede? si contrae tutto devo terrorizzare una forza vendita gli dirò signori i dati sono a ribasso state sprofondando così quelli si accendono l'adrenalina va a mille e io poi posso dirgli che cosa devono fare ma un paziente che ha difficoltà all'intestino e quella roba lì non gliela devo mica dire se no poverino non conta l'ironia non conta il senso del sarcasmo l'umore il cervello sente e traduce punto usate per esempio metafore legate al caldo caldo è buono freddo freddo blocca lo dite voi no? e ho sentito non potremmo dirlo oggi perché questa temperatura sahariana potevo niente magliettina corta oggi che secondo me però voi cosa dite? accoglienza un po' freddina l'atmosfera è un po' fredda freddo uguale scala di Bristol meno uno cioè pam! tipo proiettili ok? non c'è altro contesto in cui potrei parlare della scala di Bristol come questo sono molto felice luce va bene buio va male luce voi l'ho collegata alle cose buone ah finalmente ho le idee chiare ah mi sono schiarito le idee vedo la luce in fondo al tunnel sono all'oscuro di tutto io voglio farvi notare che tutte queste cose qua sono già scritte dentro è l'intestino che parla da qui l'intestino le sente e le butta sulle parole l'intestino sente che le cose non vanno bene ti farà dire sono all'oscuro allora io cosa faccio? dico ok si è vero non è una situazione molto chiara ecco la magia sono all'oscuro di quello che sta capitando io ti rispondo no alla maniera no tutto va bene che quella roba lì non funzionano anzi fanno più danni che altro ti dirò si è vero la situazione come dici tu non è chiara ti prendo scuro lo trasformo in chiaro cambio la percezione cambio gli ormoni ti faccio star meglio sto riducendo all'osso c'è tanto da fare ma da lì si parte quindi luminoso si è buio morbido morbido sì duro in questo contesto intestinale ok no duro è considerato brutta cosa in questo contesto carattere duro spigoloso invece posizione la resilienza pensa quante cagate ti fai con la resilienza tutto fluido tutto morbido insomma è bellissima come parola usate il morbido perché morbido è meglio che non morbido in questo consesso di scienziati ok e l'ultima interessante chiaramente fluido evita stasi e morte bloccato chiude fluido apre quindi questi sono i grandi codici universali per cui per l'intestino in particolare evitate di parlare di blocchi tutto scorre ma non troppo perché sennò poi si passa al set della Bristol e è un altro tipo di problema a posto buona serata prego ottima ottima relazione anche questa si è tenuto belli vispi attivi se avete bisogno di fare un colloquio fluido se avete bisogno di fare un colloquio di lavoro sapete anche da chi andare per raggiungere i giorni migliori però sono state dette delle cose interessanti a parte mi è venuto in mente guardare su mi è venuto in mente un po' Alessandro Magno che era un po' inclinato un po' ascoltava giù e un po' ascoltava su quindi in questo caso aveva questa malformazione che lo portava ad avere la testa un po' inclinata ascoltava un po' tutto diciamo poi mi è venuto in mente un'altra cosa in merito a questa relazione che effettivamente le parole ci possono interattare tanto anche come nutrizionisti perché noi come nutrizionisti conosciamo i mood food i cibi dell'anima in cui spesso si rifugiano tante persone alcol zucchero dolci in generale per sollevarsi un po' l'umore forse oggi Paolo ci ha spiegato un po' meglio come effettivamente si possa ricorrere ad altri strumenti per poter stare meglio e dal punto di vista mentale dal punto di vista fisico che si può non 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 Grazie a tutti.